Un federalismo pragmatico, ma anche ideale, con nuove regole che partano dal superamento del principio dell'unanimità per archiviare i veti che spesso bloccano le decisioni del Consiglio europeo. È la proposta di Mario Draghi per la riforma dell'Unione europea, illustrata durante un lungo intervento in plenaria all'Europarlamento di Strasburgo. Le istituzioni che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi. La pandemia e la guerra hanno chiamato le istituzioni europee a responsabilità mai assunte fino ad ora. Il quadro geopolitico è in rapida e profonda trasformazione. Dobbiamo muoverci, muoverci con la massima celerità. L'intervento del Premier è stato commentato positivamente dagli europarlamentari italiani, anche se con sfumature diverse su alcuni temi. Siamo felici che nel suo discorso il Presidente Draghi abbia sottolineato la necessità di un cambiamento radicale. Ha parlato di riforma dei trattati, cosa che noi qui chiediamo da parecchi anni, prima che diventasse di moda. È chiaro che non c'è una visione unitaria su dove deve andare questa riforma, però il fatto che venga messa sul tavolo in maniera pesante è importante. Francamente mi ha stupito in positivo. Mi aspettavo un discorso che comunque toccasse questi temi, però in maniera più moderata, almeno nel modo in cui avevamo imparato a conoscerlo, soprattutto nel suo ruolo di Presidente della Banca Centrale Europea qui in Parlamento. Invece l'ho visto molto determinato, ha preso posizione su alcuni temi che sono dei temi importanti, dalla revisione dei trattati all'allargamento. Lui ha fatto un riferimento diretto a un ingresso immediato di Albania e Macedonia del Nord e di velocizzazione per gli altri. Il PNRR non è un regalo dell'Europa. Oltre 160 miliardi sono a debito, li pagheremo noi, li pagheranno i nostri figli. Ora, interrogarsi su questa montagna di risorse, prendendo atto dei limiti enormi della capacità di spesa che non c'è stata negli anni scorsi e cercare di capire come modificarla alla luce di quello che è accaduto, cioè la guerra, penso che sia un tema serio, credibile. E noi ci auguriamo che il Presidente Draghi utilizzi la sua credibilità internazionale per lavorare in questa direzione.